Sabato pomeriggio alle ore 14 il fischio d'inizio dato da Ettore Toscanini di Genova, coadiuvato dai due arbitri provinciali Osvaldo Locatelli e Dermanno Bresciani, ha dato il via alla fase finale della Coppa Italia di società della categoria B, qualificate 16 formazioni provenienti da tutto il nord Italia. Ancora una volta il Comitato Tecnico Territoriale di Domodossola ha dimostrato che l'ormai collaudata macchina organizzativa è in grado di gestire al meglio queste manifestazioni di respiro nazionale. Ottimo il livello tecnico degno della categoria in campo. Le prime eliminate sono state la familiare di Alessandra, la Crivellese di Torino e Cussignacco di Udini. Fuori dai giochi dopo le partite di recupero anche Silpa Torino, Dolada di Belluno, Tesoreria di Torino e Quadrifoglio di Udine. Domenica mattina alle 9.30 in campo per i quarti di finale tutti a Domodossola. Eliminati Rosta e la boccia Carcare in poco tempo, mentre molto più combattute e ben giocate le partite che alla fine hanno visto comunque escruse Roverino e Piatto Sport, che addirittura era in vantaggio per 11-3 sulla Ostana. Proprio la Ostana è stata ancora protagonista nelle semifinali, dove da uno svantaggio di 12-1 è riuscita ad approdare la finale vincendo contro San Candido 13-12. L'altra semifinale ha visto di fronte Poderoba di Belluno e Litorale di Massa Carrara ed anche in questa partita il risultato è stato ribaltato dal 7-2 per i Veneti al 13-7 a favore dei Toscani. Molto combattuta la finale tra Ostana, capitanata dal consigliere federale Roberto Favre e il litorale del grande Franco Dogliani, già vincitore del campionato italiano a coppie di questa categoria. Partita equilibrata sino al punteggio di 8-7, poi i massesi hanno preso le distanze e sono arrivati ad agguantare anche la Coppa Italia. Bel momento quello della premiazione con i discorsi del presidente del comitato degli autori al quale sono poi seguiti quelli dell'assessore allo sport Angelo Tandurella, del presidente provinciale Mauro Covini e della consigliere regionale Sante Tregnago. Dopo la cerimonia ha ancora preso la parola il consigliere federale Roberto Favre per fare i complimenti al comitato tecnico territoriale di Domodossola.